Non ci credo, sì ma 2006, 2006 Petrus da 2006 quanto vale sta bottiglia? Per me vale più di 10.000, vale anche 15.000 pezzi per gli impiegati Perché vuol dire 15.000 pezzi per l'espressione 15.000? Perché gli impiegati sono i crupi del casino, no? Quindi quando si vince o si perde, ho dato 5.000 pezzi agli impiegati Spiega Lorenzo che sei più bravo di me Apriamo, apriamo, apriamo Tanto apriamo, musica intanto Sono emozionato 5.000 pezzi per gli impiegati